Oh Giuliano, libera Milano! Grazie! Piazze come queste, gioie come queste, entusiasmo come questo a Milano non lo si vedeva da troppo tempo, abbiamo già vinto non il primo, il secondo e il terzo, ma il quarto round, abbiamo già restituito felicità e gioia alla nostra città. Dico perché grazie è la parola che voglio ripetere 110.000 volte, perché grazie è un grazie di cuore, è un grazie sentito, è un grazie sincero, è un grazie di chi vi vuole bene e sa che voi mi volete bene e questa è la nostra ricchezza. Dobbiamo essere all'altezza delle aspettative, e sono tante le aspettative, e per essere all'altezza delle aspettative ognuno di noi sarà importante, bisognerà prendersi cura della nostra città e ognuno di noi dovrà farlo. Il giardino sotto casa sarà un giardino di tutti, non sarà un giardino di pochi. Sappiamo che alcune parole sono nel nostro cervello, nel nostro cuore, nella nostra bocca. Giustizia, inclusione, generosità, solidarietà, lavoro, guideranno il nostro agire. È Milano l'impegno che abbiamo preso, libereremo Milano, l'abbiamo detto. Ci siamo riusciti, abbiamo ripreso Milano. Adesso andiamo avanti.